L'ultima volta che siamo stato qua, proprio su questo palco, è stato in occasione del dibattito pubblico che ci è stato di confronto tra i vari candidati e abbiamo discusso molto sul ruolo che le associazioni per me queste hanno, proprio per l'occhio di riguardo costante al fiume e soprattutto all'attività di ciò che è considerato l'asset naturalistico più importante della città. E' quello che caratterizza e connota anche per gli anni. Quindi, al di là delle beneverenze del Sassino, che hanno anche qui una connotazione particolare, che riflettono tutta un'altra, in qualche modo, caratterizzazione, che viene data anche, come diceva prima, di con la minuta, giustamente un po' politica, nel senso che è vero che c'è grande concordia, però un po' quello che si discute, è una priorità, invece qua credo che sia una cosa più genuina e le scelte siano fatte assolutamente in modo tale da essere il più possibile rispondenti ai criteri, cosa hanno dato a queste persone la città e in che modo possiamo riconoscere di merito a prendarle.